L'orecchio medio è la parte soggetta tramite il timpano al fenomeno della compressione dei gas. Scendendo in profondità la pressione aumenta, il timpano si introflette e, se teso troppo, dà origine a un fastidioso senso di compressione che si trasforma in dolore proseguendo la discesa. Insistendo a scendere si può provocare la rottura del timpano.